Sabato 17 dicembre 2016 le elezioni per quello che riguarda il consiglio direttivo del motoclub Adventure Anghiari hanno portato ad un cambiamento per quello che riguarda il ruolo di presidente. Da Roberto Senesi a Francesco Cappanelli. Noi siamo con il nuovo presidente. Intanto i complimenti per questa elezione e anche le emozioni che ti hanno coinvolto a livello personale perché sei diventato il presidente di un motoclub importante come l'Adventure. Le emozioni sono sempre forti per questi cambiamenti e soprattutto mi sono reso conto della grande fiducia che mi hanno dato tutti i soci che mi hanno votato. Cercheremo in qualche modo di portare avanti il lavoro eccellente è svolto da Roberto Senesi con grandissima passione. Mi presento un attimo dicendo che ho 23 anni sono un ragazzo diciamo come tutti appassionato alle moto e sono 4 anni che vado in moto e non sono fortissimo in moto però insomma sono due anni all'interno del motoclub. Ti aspettavi di diventare presidente? Beh un pochino sì e diciamo 50% sì 50% no perché avevo questa sensazione e niente mi hanno proposto il mio nome varie volte e quindi alla fine diciamo mi sono fatto coraggio e mi sono candidato come nuovo presidente. Hai accenato prima anche alla figura di Roberto Senesi. Credo che da parte tua ci sia anche la voglia di fare un ringraziamento a Roberto che per il motoclub ha sicuramente rappresentato un valore aggiunto ma oltre che a lui anche a tutti i soci a coloro che ti hanno sostenuto diciamo in questa nuova strada. Beh certo Roberto Senesi è una persona che dal primo giorno che l'ho conosciuta è veramente una persona eccezionale e che dà veramente tutto, mette grandissima passione in tutto quello che fa e è riuscito in 4 anni a raggiungere degli obiettivi importantissimi per quello che è il nostro gruppo cioè all'inizio nessuno poteva immaginare dove siamo arrivati adesso. Dobbiamo anche dire che si sono rinnovate anche alcune cariche proprio nel giorno del 17 dicembre possiamo velocemente anche magari sottolineare quelle più importanti? Sì beh si sono rinnovate le cariche del vicepresidente e del segretario il vicepresidente è Nicola Matteucci e il segretario Ivan Giovagnini che sono due persone che ritengo e riteniamo tutti capaci e molto propositive e soprattutto con voglia di fare all'interno del motoclub mentre per quanto riguarda il gruppo dei consiglieri sono state rinnovate alcune cariche e le altre sono rimaste diciamo invariate Nel corso di questi anni Roberto Senesi ha sempre detto ho alle spalle un gruppo di giovani capaci, motivati e sicuramente che prenderanno le redini del motoclub questo momento sembra essere arrivato anche se ovviamente c'è un bel mix all'interno del gruppo perché voi giovani avrete sempre bisogno credo anche delle indicazioni dei più esperti quindi le parole di Roberto sono avverate giuste però insomma c'è bisogno di tutti Certo abbiamo, cioè mi faccio coraggio perché abbiamo alle spalle come hai detto te Daniele abbiamo alle spalle un gruppo sempre presente di persone con esperienza che sono sempre state all'interno del motoclub pronte ad aiutarci a darci una mano, un consiglio e quindi diciamo ci sentiamo al sicuro insomma protetti tra virgolette Allora guardiamo anche un po' al futuro, cosa dobbiamo aspettarci per il 2017 ma anche per i prossimi anni perché credo che ci sia un progetto che va al di là di una singola stagione ma che sia meglio lungo periodo Certo, allora per quanto riguarda il 2017 innanzitutto porteremo avanti questo lavoro svolto da Roberto Senesi ci sarà un periodo di rassettamento per capire insomma quello che dobbiamo fare per poi intraprendere nuove sfide come nel DNA del motoclub adventure con passione e professionalità e ci mettiamo anche tanta tanta energia e voglia di fare per il bene del motoclub, anche per il divertimento nostro, delle persone che partecipano alle nostre manifestazioni E allora io concluderei facendo un grosso in bocca al lupo a Francesco Cappanelli e al motoclub adventure anghiari insomma perché ci possa essere un 2017 e viaggia a seguire insomma di successo e soprattutto di divertimento Grazie mille, ringrazio soprattutto chi mi sta dando, chi mi ha dato una mano, un consiglio e soprattutto chi mi ha dato fiducia fatto sì che sia il nuovo presidente del motoclub adventure di anghiari Infine faccio un augurio di buon 2017 a tutti gli amici del motoclub a tutti i soci e non del motoclub e speriamo di riuscire ad accontentare tutti e di fare un buon lavoro insomma